Non per voler far rima, Dodoni veronese, Capponi marchigiano e allora Italia e Portogallo. Portogallo che però è dietro perché Fortes ha lanciato molto poco, 18-71 non è getto del peso. Però probabilmente l'avversario più di grido sarà altri ottimo finora. Andrea Barberi che è solito venire su forte grazie al rettilineo finale, stavolta è già lì, Johan Vieru lì è a fianco, Johan Vieru, Vieru il romeno, Vieru il romeno, l'unico con l'azzurro capace di un meno 46, quest'anno 46-10 per l'atleta delle fiamme gialle. Attenzione a Vieru che sta provando a rimontare qualcosa, il romeno, va a vincere Andrea Barberi, va a vincere Andrea Barberi, vediamo il tempo, vediamolo, vediamolo, niente meno 46 anche se di poco. 46-03, un buono Andrea Barberi, 46-03, 8 punti per lui, 7 punti alla Romania, quindi quantomeno sul Portogallo.